Musica Ben trovati dalla redazione aquilana del TG di TV6 L'Aquila. In apertura la cronaca giudiziaria parliamo di Sanitopoli, difesa di Del Turco, nessuna traccia dei soldi. È stato un vero e proprio fiume in piena il legale difensore dell'ex governatore d'Abruzzo Ottaviano Del Turco nell'ambito del processo in corte d'appello dell'Aquila sulla Sanitopoli abruzzese. Un processo in cui un signore prende 6,2 milioni di euro in contanti e di questa somma non c'è segno. Comincia così la ringa difensiva di Ottaviano Del Turco. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di apertura. La sentenza di primo grado sulla Sanitopoli non ha tenuta logica. È un campionario stupefacente di insensatezze. Il tribunale è guidato da una convinzione preventiva, quella di trovarsi di fronte a fatti corruttivi gravissimi e di doverla punire. Così l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, uno dei legali che assistono l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, nel corso della sua durissima ringa difensiva al processo di secondo grado presso la corte d'appello dell'Aquila sull'inchiesta che nel 2008 decimò la giunta regionale con l'arresto del governatore, poi condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione. In aula, gli avvocati difensori degli imputati più eccellenti, Ottaviano Del Turco, Lamberto IV, Camillo Cesarone e Sabatino Aracuo. Abbiamo fatto, aggiunto Cagliazza, un processo in cui un signore prende 6,2 milioni di euro in contanti e di questa somma non c'è segno né di un euro né della traccia di un euro. Spesso i soldi frutto di corruzione non si trovano, il borsone di contanti non si trova quasi mai, ma i soldi lasciano sempre una traccia. Del Turco è stato ministro della Repubblica e sindacalista della CGL, ma la sua vita è continuata in una sobrietà leggendaria, encefalogramma piatto. Nel corso della ringa, l'avvocato Cagliazza, parlando di accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza, ha ricordato anche l'acquisto di tre immobili da parte di Del Turco, ma per pagarli, ha detto sempre illegale, ha smobilizzato una polizza di 15 anni prima e messo in vendita tre quadri dell'amatissimo Mario Schifano, suo amico personale. E poiché questo è inconciliabile con l'accusa di tangenti, la sentenza bellamente non ne parla. Nelle quattro ore di arringa, l'avvocato Cagliazza ha parlato di un'aggiunta che doveva essere fatta fuori, perché operava con danno gravissimo, alle operazioni illegittime di alcune cliniche private. Abbiamo vite distrutte, una reputazione politica, quella di Ottaviano del Turco, distrutta dopo decenni di vita pubblica. Su di lui si è battuto un ciclone, paga i veri poteri forti di questo paese. Poi l'invitabile accenno sui viaggi eseguiti dal grande accusatore Vincenzo Angelini, ex patron del gruppo Villapini, le cui dichiarazioni hanno portato alla decapitazione dell'aggiunta regionale del Turco con l'arresto del governatore. Intanto Angelini, per il cracca di Villapini di Chieti, è stato condannato a dieci anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Torniamo a parlare del maltempo nella Marsica. Un vertice per richiedere lo stato di calamità, un vertice politico-tecnico proprio per richiedere questa misura di emergenza. La regione si è comunque attivata per la polizia delle strade e dei canali nel Fucino. Il servizio è di Germana Dorazio. Martedì prossimo l'Aquila ospiterà un incontro per sincronizzare le azioni della regione con quelle dei territori colpite dal maltempo nella Marsica il 15 ottobre scorso. Un vertice tra i sindaci della Marsica con il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio e il sottosegretario alla presidenza della Giunta Mario Mazzocca si è svolto appunto al comune di Avezzano per definire le procedure finalizzate alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza in seguito all'alluvione. Il sottosegretario Mazzocca ha rivolto un invito ai sindaci presenti, c'erano quelli di Avezzano, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, San Vincenzo, Capistrello, Luco, San Benedetto de Marsi, Carsoli, Moreno e Magliano. Ai sindaci viene chiesto di dettagliare quanto più possibile i danni causati dal maltempo alle infrastrutture e alle culture del territorio al fine di supportare in maniera ottimale la richiesta che la regione ha avanzato per la dichiarazione dello stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla riunione tecnica hanno partecipato anche i rappresentanti del Consorzio di Bonifica, la Coldiretti, la Confagricoltura e ogni ingegnere della protezione civile. Il presidente del Consiglio regionale inoltre ha dichiarato che la regione si è attivata per recepire finanziamenti per la pulizia delle strade e dei canali del Fucino, fino ad oggi di incerta competenza. Il collettore centrale ha sostenuto uno dei rappresentanti del Consorzio e le strutture canalizzate sono state danneggiate e per questo non è necessario solo un intervento di manutenzione ordinaria ma straordinaria. Aveva appena rubato capi di abbigliamento per un valore di circa 600 euro nel negozio H&M all'interno del centro commerciale L'Aquilone all'Aquila quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell'Aquila li hanno arrestati. A finire in manette tre marocchini provenienti dalla Marsica di circa 20 anni e 21 anni, tutti appunto provenienti dalla Vezzanese. Dopo la segnalazione i militari sono intervenuti bloccando i tre che si sono dati alla fuga dal vicino parcheggio della sede di Confindustria, dove si erano nascosti subito dopo il furto. Il terzo uomo è stato invece riconosciuto in un secondo momento mentre cercava di nascondersi fra le auto parcheggiate lì nel centro commerciale. Parliamo di turismo. Parte un progetto per pacchetti turistici, golf e wine. Sono tanti siti dei campi da golf della nostra regione, sono interessati anche quelli aquilani, dove appunto verranno attuati questi progetti. È partito ufficialmente il progetto Sea Tour Senior Tourism Discovering European Golf and Wine, finanziato nell'ambito del programma europeo COSME 2014-2020. Il progetto nasce con l'obiettivo di migliorare l'offerta turistica in quattro aree geografiche, Italia, Francia, Spagna e Portogallo, coniugando le destinazioni turistiche meno sviluppate ma dotate di un ricco patrimonio culturale e di campi da golf. La regione Abruzzo ha partecipato al progetto sin dalla fase di candidatura, sostenendo fortemente questo tipo di iniziative e proponendo il proprio territorio come area pilota per il test dei pacchetti turistici Golf e Wine, che saranno realizzati nell'ambito delle attività del progetto. A marzo 2016 l'Abruzzo ospiterà i giocatori provenienti dagli altri paesi partner del progetto, che soggiorneranno nella nostra regione per una settimana. La regione Abruzzo si è proposta inoltre come area pilota per il test dei pacchetti turistici Golf e Wine, mettendo a disposizione un territorio caratterizzato dalla presenza di diversi campi da golf, uno anche all'Aquila. Inaugurata la stagione del Teatro Stabile d'Abruzzo con l'attore comico Enrico Brignano. Siamo stati anche gli inventori degli assegni caprioletti. L'attore comico Enrico Brignano arriva all'Aquila, a Piazza del Teatro, culla del Teatro Stabile d'Abruzzo, che alzerà il sipario della nuova stagione proprio con il suo spettacolo. L'attore romano non ha voluto rinunciare alla passeggiata in centro storico, per vedere soprattutto in che condizioni è il suo teatro comunale. Suo perché, per la rinascita dello stabile, Brignano allestì uno spettacolo di solidarietà, subito dopo il sisma, devolvendo 100.000 euro proprio al TSA, che con quella cipra sopravvisse e poter ripartire. Uno spettacolo di solidarietà, anche quello di ieri sera, a favore del progetto Teatro Giovani, in scena all'auditorium della Guardia di Finanza, a stracolmo di persone. Io sono venuto qui all'Aquila, insomma in tempi proprio di grande tragedia, si stavano contando ancora i dispersi. Rivenire adesso e vedere che ancora a quest'ora lavorano gli operai, insomma. Brignano fa tante domande sul progetto di ristrutturazione del TSA e si intrattiene a lungo con il sindaco dell'Aquila e l'architetto della soprintendenza Marcello Marchetti, direttore dei lavori. Caustico con il primo cittadino, Brignano, battuta alla mano, chiede a Cialente la data delle sue dimissioni. Le dimissioni quando le diamo? Sì, ma fracato a marello! E poi c'è stato Raffaello, che prima di diventare famoso per gli album da disegno che aveva aperto vicino al negozio e lui faceva i cioccolatini. Il popolarissimo attore ricorda le sue origini abruzzesi e aggiunge è un paese in emergenza, mentre noi siamo qui a Messina, sono senza acqua, altre zone sono devastate dall'alluvione. Non credo che la politica possa ricostruire le case, ma il buon senso. So che Renzi qui non l'avete fatto entrare e questo è un buon segno, aggiunge con il sarcasmo che lo contraddistingue. Non dipende dal colore politico, anzi molto spesso il colore politico osteggia. So soltanto che Renzi qui non l'avete fatto entrare e quindi credo che sia un buon segno, insomma. E veniamo allo sport, l'Aquila Calcio. I rosso-blu incontreranno la squadra di Sant'Arcangelo. La gara è in programma domani, primo novembre, alle ore 14, allo stadio Tommaso Fattori dell'Aquila, ottimista mister Perrone. Allora sentiamo tutti i particolari nel servizio di Gianmarco Menga. Seconda sfida casalinga consecutiva per l'Aquila, che domani pomeriggio al Fattori riceve il Sant'Arcangelo di Lamberto Zauli. Gli ospiti sono reduci dal KO infrasettimanale contro il Teramo e hanno una gran voglia di riscatto. I rosso-blu di Perrone invece sognano il bis in casa dopo la sofferta ma fondamentale vittoria dello scorso turno di campionato contro la Carrarese. Vincere significherebbe mettere altri punti preziosi in cascina, allontanare i bassifondi della classifica e presentarsi tra sette giorni a Pisa con l'animo di chi se la va a giocare senza nulla da perdere. L'allenatore aquilano però dovrà fare a meno ancora una volta del terzino sinistro Simone Piva out per uno stiramento muscolare di secondo grado mentre resta in dubbio l'impiego in avanti di Claudio De Sousa che ha trascorso tutta la settimana con l'influenza. Nel caso del forfè della Pantera toccherà Perna dal primo minuto. Per il resto si va verso la conferma del 4-4-1-1 con Triarico dietro la prima punta e con Ceccarelli e San Domenico esterni di centrocampo. Appuntamento al Fattori alle ore 14. Uno spazio oggi vogliamo dedicarlo anche alla festa americana di Halloween. All'Aquila c'è ancora molta perplessità su questa notte tanto attesa, la festività anglosassone che appunto si festeggia stanotte. Per molti è solo un'occasione per degustare ricette a base di zucca, per i giovani invece anche un modo di festeggiare insieme questa ricorrenza. Noi abbiamo chiesto agli aquilani cosa ne pensano, per noi Stefano Castellani. All'Aquila c'è ancora molta perplessità sulla notte di Halloween, la festività anglosassone celebrata la notte del 31 ottobre. Per molti è l'occasione di degustare ricette che vede il protagonista la zucca, mentre per diversi giovani è soltanto l'opportunità per stare insieme questo sabato sera. Un consiglio per cucinare la zucca stasera? Allora un consiglio come la faccio io, faccio tocchettini con prezzemolo, aglio, capperi, pangrattato e acciughe. Lo metto in una teglia e poi lo lascio gratinare a fuoco moderato. Quanto tempo ci vuole per cucinare? Quarto d'ora e venti minuti. E la vendita delle zucche? Quest'anno è stata veramente raddoppiata rispetto all'anno scorso, ne abbiamo vendute veramente tante, tante tante. Come festeggerai Halloween? Pensavamo di organizzarci con gli amici, cioè nel senso una cosa insieme. Una festa americana come arriva in Italia? Beh, dato che ormai è tutto molto commercializzato, insomma involontariamente arriva, ma così come il cinema è condizionato all'America, un po' tutto lo è. Perché non è una festività che mi appassiona molto. Allora festeggerai? Sì, penso di sì. In che modo? Eh, con gli amici forse ci travestiamo, non lo so. Andiamo in discoteca? No, forse a casa di qualcuno. Cioè è un sabato normale per me. Insomma, per alcuni aquilani la festa del dolcetto o scherzetto ancora non convince molto. Sono numerosi infatti i detattori che vedono questo evento come demoniaco, proprio alla vigia della ricorrenza cattolica di ogni santi. Signora ha comprato la zucca oggi? Sì. Come mai? Eh, perché voglio fare una decorazione. Ce l'avevamo un bare? No, non la festeggio e non la faccio festeggiare neanche a miei figli, perché è la festa dei morti. E per concludere, gli studenti aquilani non si arrendono e annunciano una nuova grande mobilitazione contro la buona scuola e lo annunciano per i prossimi giorni. Torneremo in centro storico per fermare l'attenzione sui temi focali della riforma. Fermano in una nota i rappresentanti dell'Istituto Geometry del Capoluogo e nostra intenzione è invitare tutti i rappresentanti delle istituzioni per favorire uno scambio importante di idee e di intenzioni alla presenza dei cittadini aquilani. Si andrà avanti per affermare con determinazione tutto ciò che non si può condividere di questa riforma targata Renzi che non riesce a garantire davvero la buona scuola. Bene, con questa notizia dedicata ai giovani termina il TG TV6 L'Aquila. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.